Sosta selvaggia in via Angeli, una strada difficile da percorrere per gli automobilisti ma anche per i pedoni. Le macchine parcheggiate lungo la via, soprattutto in prossimità delle curve, restringono la carreggiata rendendo difficile il passaggio delle auto che si incrociano. Nonostante la presenza di un divieto di sosta piazzato dinanzi il collegio delle suore, proprio in prossimità della curva i nisseni non curanti del codice della strada e delle norme del vivere civile continuano indifferenti a lasciare le proprie auto. Una via a doppio senso di circolazione transitata quotidianamente da tanti automobilisti per raggiungere il cimitero Angeli e il centro storico. Un disagio segnalato alla nostra redazione da un residente della zona che a causa del restringimento della carreggiata ha avuto nei giorni scorsi un incidente stradale. La mia esperienza è che qua quando si scende con la macchina ci sono queste tre curve che sono diventate pericolose perché questo è un doppio senso di circolazione diventato. La sotto vicino a Fioraio c'è un senso di uno che non si può salire più e tutte queste macchine sono tutte posteggiate sulla destra. Uno che deve scendere di qua, dove si deve buttare? Salendo una macchina che sale un pochettino più forte, che ci sono quello che magari affretta a premure cose, qua in queste tre curve diventa pericoloso. Ma l'appello che faccio io di queste macchine è di togliere tutte queste macchine sulla destra a scendere perché questo è un sale scende di macchine e possibilmente è un doppio senso di circolazione questo qua. Per i pedoni, perché quando si scende il camion si ferma anche il camion delle mondizie sulla destra che ci sono le cose delle mondizie pure che bisogna fermarsi. Si fermano qua a prendere le mondizie e non si può scendere più. Se lei guarda, guarda qua quelle macchine che scendono di qua, sulla destra ci hanno tutta la destra occupata. Senso di inciviltà quello dei nisseni che continuano ad abbandonare rifiuti speciali e incompranti lungo le vie cittadine, soprattutto nel centro storico. Infatti dietro i cassonetti di Via Angeli, i gnoti hanno abbandonato un divano e vecchi mobili che giacciono sul mando stradale, rendendo indecoroso l'ambiente circostante.